Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati qui su YouTube. Oggi sono tornata con il canto degli uccellini e il rumore della natura in piena estate, in agosto precisamente. Anzi, come sta andando la vostra estate? Fatemi sapere, spero tutto bene. Ma adesso, cioè oggi, abbiamo un video diverso dal solito. Abbiamo un haul, però di oggettini, di elettronica, come avete visto dal titolo in descrizione. E il brand che mi ha contattata è questo, Temu. Non so se si pronuncia così, però noi adesso andiamo a spacchettare tutto ciò. Cioè, guardate qua, che paccone enorme, pesantissimo tra l'altro. E voilà! E oggi sono felice di presentarvi Temu, una fantastica app per lo shopping, dove potete trovare davvero di tutto. Ci sono tantissime categorie, praticamente per soddisfare tutti e tutti i gusti. Sia categorie per donna, per uomo, per bambino, per animali domestici. Abbiamo vestiti, articoli per la casa, articoli appunto per animali, giardinaggio, elettronica. Insomma, veramente di tutto e di più. E i prezzi sono super convenienti, soprattutto rispetto ad altri marketplace. Perciò io davvero vi invito a scaricare l'app Temu, dove troverete veramente di tutto e di più per le vostre esigenze. Quindi davvero io vi invito a fare clic nella casella di descrizione, troverete gli articoli selezionati e anche ovviamente a utilizzare il mio sconto esclusivo per voi, che vi permetterà davvero di acquistare a vantaggi veramente fantastici. Vi invito a scaricare l'app Temu e a cliccare giù nel link in descrizione, appunto, per poter usufruire degli sconti esclusivi. Vi invito a utilizzare anche il mio codice sconto per ottenere lo sconto estivo con risparmi fino al 90%. Quindi davvero super super vantaggiosa questa app. È molto semplice, andate su App Store, naturalmente è un'app gratuita. La scaricate, vedete il download è semplicissimo. E poi troverete tutte e tutte le categorie, davvero tutto quello di cui avete bisogno, quindi per donna, per uomo, per bambino, casalinghi, vestiti, casalinghi, vestiti, accessori per il trucco, insomma davvero di tutto. È davvero semplicissimo aggiungere gli oggetti nel carrello e poi appunto procedere all'acquisto. Naturalmente vi consiglio caldamente di utilizzare il mio codice sconto che vi permette appunto di ottenere sconti esclusivi fino al 90% di risparmio. Gli articoli hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. La spedizione è veloce e gratuita. Avete fino a 90 giorni per ottenere un reso. Avete fino a 90 giorni per ottenere un reso gratuito. Ma prima di partire con il video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale e lasciarvi un bel like. Prometto che sarò più attiva in questo periodo anche in agosto. Anzi, spero che mi seguiate in agosto. Magari siete in vacanza sotto una palma. Però magari c'è il segnale wifi. E mentre state sorseggiando un cocktail o vi riposate all'ombra, guardate un mio video. Ok, adesso direi di, bando alle ciance, di iniziare il video. Oh, la temo oggetti elettronici. Allora, io partirei da questo mega mega pacco pesantissimo. E andiamo a vedere cosa ci troviamo all'interno. Allora, intanto vedo qua una, queste sono delle lucine, vi dico già, perché ho controllato ovviamente. Io ho già inserito le pile così che possiate vederle. Questa è una bella, bella, bella striscia di luci. E adesso magari provo anche a sbrogliare. Guardate che carina. È lunghissima. È veramente lunghissima. Eccola qua. Naturalmente queste lucine, questa è edera. Sono foglie di edera, ovviamente finte. Sono molto carine, molto cute. Le lucine sono molto carine, molto cute da decorare, per decorare la stanza in estate. Quindi ecco, perché appunto sono naturali, cioè richiamano il verde del bosco, dei giardini. Quindi, che ne dite? Qua ci vanno tre pile. Ed è lunghissima. È una striscia veramente lunga. Direi che a me piacciono molto. Poi sapete, io amo le lucine. E quindi decorerò sicuramente il letto, il muro, insomma qualcosa, qualche mobile. Ecco, con questo decoro, secondo me, rende la casa più accogliente. Queste lucine, secondo me, rendono appunto la casa più accogliente. E così estive non le avevo. Quindi ecco, le ho scelte così. Poi continuiamo con lo spacchettamento. Qua abbiamo un ventilatorino. Abbiamo un ventilatorino portatile da borsetta o anche da scrivania. Ecco qua. Uh, pardon, mi è già partito. Ecco qua. Tra l'altro c'è, non so se la vedete, c'è anche la lucina. E poi, ah, con questo caldo è fantastico, adoro. Ovviamente lo scelto è rosa. E ha diverse velocità. E ha una più leggera. La seconda e la terza. Fantastico, con questo caldo è fantastico. Si può appunto appoggiare da tavolo che appunto portare in borsa. L'ho scelto rosa, troppo cute. Mi ero dimenticata di dirvi che c'è anche il suo caricatore USB per quanto riguarda il ventilatorino. Non ha le pile, ma appunto si carica tramite questo cavetto che è in dotazione. Cioè, lo amo. Ormai l'avete capito. Quindi anche questo è comodissimo. Lo caricate, lo infilate in borsetta e ciao. Proseguiamo. Guardate che carino anche questo. Questa è, questa è, una lucina notturna. Troppo carina, troppo cute anche lei. Così con il gottino rosa. E questa ha l'attacco USB alla presa. L'ho già provata ed è molto carina. La luce è gialla. Guardate quanto è cute. Troppo carina. Secondo me tiene anche appunto compagnia di notte. se non abbiamo, non amiamo stare sempre troppo al buio, diciamo al buio pesto. Ho scelto un oggetto, poi ho scelto un oggetto troppo cute. Ovvero questa. Che cos'è? È una lampada che io ho già montato. Ma quanto è carina. Cioè, è bellissima. Questa me l'ho immaginata sulla toiletta? Accanto a uno specchio. Cioè, questa cera sia bianca che rosa. La faccio vedere la scatola. Tra l'altro, tutti questi oggetti sono stati imballati perfettamente, tutti funzionanti. Allora, lei la devo ancora mettere in opera, perché in realtà ci sono le lucine. E devo inserire le pile. Naturalmente lo farò e poi vedrete la ripresa, ecco, durante appunto l'accensione. Guardate che cosa. Cioè, è troppo carina. Poi proseguiamo. Ho preso un oggetto, che è davvero molto utile a mio avviso, per pulire il filtro del condizionatore in macchina. Sapete dove ci sono i bocchettoni, dove si insinua tutta la polvere? Guardate questi, questi pannetti, diciamo, si infilano nei bocchettoni e si pulisce. Cioè, fantastici. E anche questa spazzolina per pulire, appunto, gli angoli in macchina. Cioè, davvero, secondo me, questo è un oggetto super utile. Infatti lo andrò sicuramente a sistemare in macchina, cosicché non avrò tutta la polvere che vola, no? Quando accendete il clima o l'aria calda, insomma. Poi, allora qua non siete pronti, perché neanche io lo ero. Ho preso un piccolo... Non è proprio un ventilatore, è un sistema di raffrescamento che io non ho mai provato e quindi sono molto curiosa di provare. Tra l'altro, da quanto ho capito, ci sono anche i led con le luci diverse. Io sono molto, molto, molto curiosa. Ve lo faccio vedere. Questo non l'ho provato ancora, proprio in questo caso. Assolutamente è da mettere in funzione. Allora, da quanto ho capito, questo prodotto qua... Allora, qua va... Aspettate, eh? Ecco, questo è il cavo per appunto attaccarlo. Qui c'è il cavo, cavo USB, vedete che... Eccolo qua. Qua va attaccato il cavo. Ok, aspettate, lo vado a... Posiziona... Eccolo qua, attaccato. Qui va inserita l'acqua. Anche acqua minerale, mi sembra di aver letto. Sì, mineral water, quindi acqua minerale o acqua filtrata, credo, ecco. E poi dopo si accende e dovrebbe appunto raffrescare, rinfrescare. Ecco, ci sono varie... C'è la modalità ventola, sarà più leggera, modalità vento proprio forte, luce e anche... C'è anche un timer. Quindi... Cioè, davvero sono contenta di averlo scelto e non vedo l'ora di metterlo in pratica. Tra l'altro mi piace molto anche il colore così verdone, che ne dite? Anzi, fatemi sapere se avete già provato questi sistemi di raffrescamento, raffreddamento, insomma, questi ventilatori, questi ventilatori che rinfrescano, ecco. Poi, allora, il sacco qua sta per svuotarsi, ma ancora ci sono un sacco di cose, tra cui questa, che è... Tra cui questo oggetto, che si tratta di una cover. Se avete la mia passione per le cover, tra l'altro l'ho già provata, ovviamente. Molto elegante, mi fa molto chic. Guardate qua, bianca. È di quelle cover super resistenti, perché è proprio... È bella spessa. Vedete qua? È morbida, ma allo stesso tempo non super morbida. È un semi rigido morbido. È troppo chiuta anche lei, così bianca. Mi sa di elegante, chic, magari vogliamo indossare un total white. E anche il telefono si veste di bianco. Poi con questa trama stile trapunta, diciamo, in rilievo, davvero molto carina. Poi proseguiamo. Allora, ho preso questo aggeggino. Vedete che è particolarissimo. Che serve per pulire la tastiera del computer. Che strano! È stranissimo. È fresco! Cioè, vabbè, dovete capire. Questa pasta qui, che serve per pulire il telecomando, la tastiera del computer. Qua è scritto tutto in cinese, però ecco, la spiegazione si capisce. Poi, intanto lo riposiziono qua. Poi ho preso, ecco, delle cuffie wireless. Eccolo qua. Che dovrebbero avere, sì, hanno il suo caricatore. Eccolo qua. Questo è il porta cuffie che si apre. Credo, eccolo qua, sì. Molto carino. E qua ci sono le cuffie. Io non possedevo assolutamente le cuffie wireless, quindi sono curiosa di provarle. Sapete che... Ok, sì. Funziona esattamente. Aspettate, eh. Ho messo un po' nuove queste. Eccole qua. E poi abbiamo il nostro cavetto. Che permette di, appunto, Eccolo qua. Caricarle. Quindi. Poi ce n'è un'altra. Perché questa l'ho presa per me e l'altra la regalerò. Non è per me. Ma adesso capirete il motivo. Per cui non è per me. Eccola qua. No, vabbè. Cioè, rosa. Mentre io le scelte rosa. Cioè, ma guardate che cute. Che carino. Questo è diverso. La posizionamento. Il posizionamento degli auricolari è diverso. Vedete, questo va qua. Guardate che carino. È troppo cute. Così. Posso stare a Al telefono Senza Avere il filo. Vedete qua? Che carino. Carinissimo. E naturalmente anche qua c'è il suo carica La sua carica wireless. Poi proseguiamo. Ah no, questo sacchetto è vuoto. Perché dentro c'era appunto Il wireless. E quindi, ok. Passiamo all'altro. Ecco qua. Questo è l'altro pacchetto. Guardate come sono imbustati bene. Impacchettati bene questi pacchi. Veramente top. Ecco qua. Vediamo un po'. Andiamo a Raffrire tutto. Ed ecco qua. Questo è una cover per il computer. Quindi lo protegge dagli uti. Ecco qua. L'ho spacchettato. Guardate che bello. Che cute. E ora vado a posizionarlo. E ora vado a posizionarlo nel mio computer. Vediamo un po'. Cosa ne salterà fuori. Anche perché purtroppo il mio computer si è... Aspettate. Vedete? Perché si è ammaccato. Perché io sono una... Sbadata. Cronica. E quindi... Allora. Direi che ci sta... A misura. Ed ecco qua. L'ho montato. Ed è perfetto. Anche perché io... Appunto il mio computer è rosa. E quindi... È fantastico. Come avete visto il mio unboxing haul. È stato davvero bellissimo. Gli articoli sono tutti fantastici. Sono funzionanti. È un prezzo davvero super super conveniente. E appunto un ottimo rapporto qualità prezzo. Perché gli articoli sono anche di qualità. Quindi davvero la mia esperienza di shopping sull'app Temu. È stata veramente super soddisfacente. Io non posso che consigliarvi di acquistare su Temu. Su questa fantastica app. Abito nuovamente a scaricare l'app che trovate gratuita su App Store. Per poi procedere al vostro shopping. Utilizzando il mio codice sconto. Che appunto vi permetterà un risparmio fino al 90%. Quindi davvero cosa aspettate? Cosa aspettate? Andate subito su App Store a scaricare l'app. E poi naturalmente andate anche giù nella descrizione del video. Dove trovate il link ai prodotti selezionati. Che mi invito ad acquistare. Inoltre è fantastico. Perché una volta che avrete l'app scaricata sul vostro telefono. Ogni giorno ci saranno delle promozioni durante appunto la giornata. Quindi davvero cose aspettate. Aspettate. Io non vedo l'ora che facciate shopping su questa app. Anzi scrivetevi giù nei commenti. Se l'avete già scaricata. Che appunto vi consiglio caldamente. Io sono super super soddisfatta e felice del mio haul su Temu. Dunque io spero che questo video haul di oggetti elettronici davvero super cute vi sia piaciuto. Abbiamo il nostro amico ospite che ci segue sempre. Nostro Matisse. Saluta tutti i tuoi ammiratori. Che so che ne hai vero? Ciao a tutti da Matisse. E adesso lo rilasciamo qua. E spero che vi sia piaciuto questo video. Vi abbia intrattenuto e vi abbia fatto compagnia. E fatemi sapere quale oggetto vi è piaciuto di più. Vi ha catturato di più l'attenzione. Vi mando un bacio. E ci vediamo prestito con un nuovo video. Ciao bellezza.